Accoglienza dei profughi e rispetto della normativa sanitaria Covid. La Questura fa chiarezza con un comunicato che si rivolge ai cittadini ucraini con passaporto che non hanno bisogno di accoglienza e che possono registrare la propria presenza in Italia via e-mail. L'indirizzo a cui scrivere è immigrazione.ts-poliziadistato.it indicando in oggetto Ucraina e il nome e cognome dell'interessato. Occorre allegare il modulo di dichiarazione di presenza compilato in tutte le sue parti, compreso il domicilio, la fotocopia del passaporto o documento equipollente di tutte le pagine timbrate, la richiesta specifica se intendono richiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea. Infine la dichiarazione di ospitalità compilata dalla persona che ospita. Alla persona interessata verrà poi comunicata via mail la data e l'orario dell'appuntamento fissato allo sportello dell'ufficio immigrazione della Questura. I profughi che invece necessitano di accoglienza oppure sono sprovvisti di documenti o ancora minorenni non accompagnati dai genitori devono recarsi in Questura all'ufficio immigrazione di via del Teatro Romano. I moduli necessari sono scaricabili dal sito della Questura di Trieste.